e urca per urca a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di fortnite ci ritroviamo qui signori per andare a completare la missione di cadere da 10 o più piani immagino senza subire danno l'unico modo comunque il miglior modo è andare sui dirigibili ragazzi ed esattamente all'entrata slash uscita ci sono praticamente sti jetpack vedete qui ragazzi troverete appunto il jetpack appeso idem da questa parte idem da quell'altra vedete eccolo qua come potete vedere guardate un po' ragazzi lo trovate praticamente qua basterà equipaggiarlo e ora cosa dobbiamo fare è semplicemente saltare e ovviamente azionare il jetpack vedete e la missione viene automaticamente completata dunque raga nulla di più semplice ci vediamo tra pochissimo con un nuovissimo video guida assolutamente missione super easy bene ragazzoni un bacione grandissimo